Grande prestazione per il tennis club Sciacca, che per i play-off del campionato nazionale di serie C maschile, ha superato in semifinale il Calta Palermo e adesso si è qualificato per la finale contro il forte Matchball Siracusa, finale che si disputerà con incontri di andata e ritorno. L'andata è prevista domenica 15 maggio a Sciacca, mentre il ritorno a Siracusa il prossimo 22 maggio. Il Calta Palermo è stato superato per 5-1, mentre la sfida contro il Siracusa metterà in palio la Final Four per la promozione in Serie B. Avanti per 3-1 nei singolari, la compagine del presidente Vincenzo Sclafani ha chiuso la pratica nei doppi, conquistandosi così la finale contro il Matchball Siracusa. Il pronostico sulla carta pende in favore del Siracusa, che avrà a disposizione Antonio Massara, numero 584 ATP, Ettore Zito, Alessio Siringo e Francesco Zuccarini. Domenica 15 maggio si scenderà in campo in terra saccense per il match di andata. Sette giorni dopo avverrà il rematch sui campi in terra rossa di Siracusa, con inizio e incontri alle ore 10 ed ingresso gratuito per tutti gli appassionati. Un risultato eccezionale comunque raggiunto in soli tre anni, partendo dalla Serie D3. Fiducioso ed entusiasta il capitano Enzo Colletti. Questi i risultati degli incontri contro il Calta Palermo. Nei singolari, Domenico Caracappa batte Matteo Licciardi 6-0, 6-1. Niklas Schell batte Gabriele Dolce 6-3, 6-1. Enrico Trimarchi batte Simone Guercio 6-4, 7-6. Mattia Iannì batte Silvio Marasca 6-3, 7-5. Nei doppi Schell Guercio battono Dolce Pecoraro, mentre Caracappa Iannì battono Trimarchi Marasca.